Quota vincente di Matteus, Villa imita Zamora, non è un rigore che ha bisogno di Moviola, dal dischetto Lothar-Matteus. Assist di Serena, Diaz non deve faticare troppo. Serena infila il 3-0, ricambia il favore a Diaz e sono 4. E l'Inter tocca quota 5, lancio chilometrico di Matteus per Serena che firma il suo ventesimo gol in campionato. L'Inter non ha pietà di un avversario più che al tappeto. 3 minuti dalla fine, Matteoli chiude il set interista. 56 reti e 50 punti per l'Inter in 29 partite.